Diego Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san Paolo al manacco di bellezza 14 settembre Leonardo Piccinini Piero Maranghi nei panni di Piero Maranghi Leonardo invece è nei panni di Leonardo DiCaprio chiaramente perché lui è sempre più bello piove senti come piove madonna come piove senti come viene giù questo è l puntato Cherubini e quindi uno pensa no lo salutiamo certo carissimo Lorenzo Cherubini in arte giovanotti nella sua cortona ne abbiamo parlato perché abbiamo fatto una puntata nel 2021 oggi parliamo di L puntato Cherubini ma non è Lorenzo ma è Luigi Carlo Zanobi Salvatore Maria Cherubini ed è morto da quasi duecento anni sì è nato quasi da trecento fra una quarantina che nasce pensate in via Fiesolana un segno del destino indirizzo giusto è la scuola di Fiesole a Firenze il 14 settembre sotto il segno della Vergine del 1760 è un figlio d'arte un nepo baby come si usa a dire oggi il padre si usa noi lo usiamo molto poi soprattutto noi che abbiamo fatto i nepo baby nella vita sì è figlio del direttore della cappella granduale la cappella granduale di Firenze e già a sei anni lui viene avviato allo studio della musica prima con il padre e poi con i felici i felici di nome di fatto di nome di fatto no sono due allora uno è Bartolomeo che era direttore presso la cappella della basilica di San Marco e poi il figlio Alessandro perché avevano una bottega musicale dove si insegnava appunto il contrapunto appunto il contrapunto bravo mi è venuta benissimo il primo lavoro del tredicenne Cherubini al suo esordio nella composizione è una messa in cinque parti per coro orchestra che adesso Leonardo può eseguire da solo e viene eseguita con grande successo presso un monastero di Firenze quindi il suo esordio è nel genere sacro è un genere poi che non abbandonerà per un bel po' di tempo nel 1777 arriva un faentino Giuseppe Sarti che era allievo di quel padre Martino celebre di Bologna c'era passato pure Mozart e il suo arrivo a Firenze avviene dopo che lui si era fatto un bel nome dove c'era del marcio in Amleto in Danimarca arriva dalla Danimarca e il Sarti a Firenze mette in scena nove titoli di cui quattro novità assolute Cherubini lo incontrerà sappiamo dopo la prima dell'Olimpiade che va in scena al glorioso teatro della Pergola l'8 febbraio 1778 l'anno in cui viene anche aperta la scala di Milano probabilmente nella casa paterna si incontrano e nel marzo successivo il nostro Cherubini supera brillantemente un esame e Sarti lo accetta come allievo due anni dopo il granduca di Toscana Pietro Leopoldo II di Lorena sì perché i medici erano estinti certo offre al giovane Cherubini una pensione e con questa pensione lui può trasferirsi a Milano per frequentare le lezioni del Sarti che ha accettato il posto di maestro di cappella presso il Duomo di Milano il Duomo di Milano è sempre il Dom allora il Duomo di Milano traguardo già molto prestigioso le sue prime opere sono ispirate ai grandi operisti italiani di quel periodo Iommelli, Traetta, Sacchini e naturalmente il Sarti si va nella Serenissima a Venezia nel 1783 va in scena con successo la sua prima opera buffa lo sposo di tre e marito di nessuna bellissimo mi viene in mente lettera a tre mogli di Manchievici capolavoro che viene sempre citato dal nostro amico Roberto D'Agostino è vero ma il panorama musicale italiano gli va stretto e quindi come molti siamo nel secolo della musica da esportazione il secolo in cui nasce il Made in Italy dei compositori italiani in giro per il mondo si sposta prima a Londra al teatro di Haymarket al King's Theatre dove scrive all'inizio dei pezzi aggiuntivi come si usava cioè dei pezzi che venivano aggiunti a opere altrui poi arrivano due nuovi titoli una è un'opera buffa, la finta principessa e il dramma Giulio Sabino che come scrive il Barney fu ammazzato sul nascere per mancanza del necessario contributo da parte dei cantanti principali si dice sempre così è sempre colpa dei cantanti perché non erano evidentemente in grado di sostenere la partitura del nostro grazie a tutti grazie a tutti da Londra ci si sposta a Parigi 1785 durante una pausa di lavoro Cherubini visita la capitale francese dove stringe amicizia con un grandissimo il virtuoso Giovanni Battista Viotti e tra le altre cose l'abbiamo rivelato all'almanacca non ha scritto il testo chiaramente ma ha scritto la marsigliese tema musicale e quindi un saluto un saluto a Viotti che è ancora vivo e guarda l'almanacca Viotti si impegna in prima persona a presentarlo agli artisti che contano tra questi e tra questi c'è il librettista marmontel che aveva già lavorato per Gretri e Piccini che non è lui lui è Piccinini allora lui non ha ancora composto nulla di significativo in terra francese che è già nato un idilio aria nuova Cherubini in occasione dell'Iffigenia in Aulide a Torino perché lei vaga in Aulide in Taulide Agamennon nel 1788 il corrispondente francese scrive è cosa consolante il poter salutare l'avvento di Cherubini e gli ha cura di fondere bene gli effetti musicali col senso delle parole maniera di comporre interessante per il nostro teatro francese e quindi è pronto è pronto per tornare a Parigi torna a Parigi collabora con Marmontel per l'opera Il Demofonte che alla prima 2 dicembre 1788 si dimostra però un solenne in successo un disastro è sempre causa di qualcun altro è colpa del librettista perché il librettista aveva cambiato il libretto che era originariamente ti eri quello è metastasio c'hai metastasio ma scusa l'aveva scritto metastasio per Antonio Caldara allora arriva il primo grande successo di Cherubini e noi qui citiamo e ringraziamo ancora una volta per il suo magistero il maestro Riccardo Muti che ne ha fatto uno dei suoi tanti cavalli di battaglia l'Odoisca si tra l'altro arriva anche un'altra cosa arriva nel frattempo la rivoluzione e la rivoluzione sarà il momento di svolta nella carriera di Cherubini perché diventa l'artista il musicista di riferimento durante la rivoluzione francese perché questa l'Odoisca avrà un successo straordinario più di 200 repliche di seguito una commedia eroica l'opera che l'avrebbe reso famoso un'opera ricca di situazioni di grande passione di grande colore in modo anche molto diretto queste storie venivano raccontate e quindi per alcuni è una sorta di anticipazione sotto alcuni aspetti dell'opera romantica anche se il povero Cherubini non è che proprio fosse felicissimo di stare in mezzo ai rivoluzionari sì anzi doveva nascondere le sue molte molte amicizie con le aristocrazie come tutti sì ognuno aveva i marchesi nell'armadio e in questo periodo questa tenzone che gli proveniva dal passare da Robespierre a qualche aristocratico gli provoca dei disturbi nervosi e quella depressione che poi sappiamo lo accompagneranno fino alla morte 1794 si sposa con la giovane Cécile Tourette viene chiamato a insegnare l'école gratuite de musique de la garde nationale parisienne dal suo fondatore Bernard Sarrette nonostante Cherubini si impegna a comporre grandi cantate rivoluzionarie non riesce mai a ottenere il successo di contemporanei che poi sono stati completamente dimenticati Meryl, Gosseck e Napoleone c'è da dire che intanto sta facendo la sua scalata trovava la musica di Cherubini troppo complessa e rumorosa per i suoi gusti e lì sai come Stalin che andava a vedere l'opera di Shostakovich non gli piaceva scrivere l'articolo sulla Pravda finito fine allora nonostante tutti questi problemi nel 1797 va in scena con un successo clamoroso la Medè che la critica definisce grande maestosa espressiva terribile beh un'opera capitale nella storia della musica anche grazie a Maria Callas non dimenticiamolo ma è un successo di breve durata alla morte di Cherubini Berlioz griderà lo scandalo chiedendosi come sia stato possibile che i francesi abbiano potuto dimenticare questa meraviglia e Medè Medè come anche altre opere di Cherubini di quegli anni si imporrà soprattutto in Germania in Austria verrà ammirata da Beethoven da Schubert da Spohr giudicata grandiosa da Wagner e prediletta da Brahms che la definirà opera che noi musicisti riconosciamo come oggetto supremo della musica drammatica e poi lo dice Brahms non era proprio semplice mettere d'accordo Wagner, Brahms Sì, quindi esatto eh in Germania e poi la o ora 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 Per trovare sollievo dalla difficile situazione parigina si va verso Vienna. E non sa ancora però che poi anche a Vienna arriva. All'inizio viene accolto con molto entusiasmo da Haydn, appunto da Beethoven. E da tutti i nobili. Ma arriva Napoleone con le truppe guidate da Murat il 13 novembre. Sai i gusti musicali di Murat. Quindi Cherubini si ritrova a essere relegato alla direzione dei concerti nella corte provvisoria a Schönbrunn. Cioè il classico incarico di alta rappresentanza ma poca. Ci suoni quella marcia. Allora, arrivano altre opere. Scarso successo di pubblico. Gli abbencerraggi, solo 20 rappresentazioni e poi caduta nel dimenticatoio. Lui incomincia a esplorare nuovi ambiti musicali e si dedica alla musica da camera, il ciclo dei quartetti, sei quartetti per archi, e alla grande musica orchestrale, la sinfonia in re che era stata commissionata da Clementi per Londra. Ma è il ritorno alla musica sacra, quindi alle origini, che gli offre i maggiori riconoscimenti. Capolavoro. Il requiem in do minore, 1816, scritto in memoria, si torna finalmente. Sono tornate le parrucche. In memoria di Luigi XVI diventa in breve tempo il capolavoro sacro del primo ottocento per compositori come Beethoven, Schumann, Bruckner. Il successo di quest'opera gli aprirà la strada per altre committenze. Tutte per re insopportabili. Sì. Perché lui scriverà per Luigi XVIII, la messa solenne per l'incoronazione, e poi ancora di più per Carlo X, quello per cui Rossini scriverà Il viaggio a Reims, 1825. Quindi questo lo farà cadere nella considerazione generale, nella categoria dei compositori reazionari, accademici. Però resta il fatto che Cherubini è un compositore straordinario. Anzi, non c'è però, è un compositore straordinario, punto. E chi passava da Parigi doveva andare a salutare Cherubini. Mendelssohn, Weber, Liszt, Chopin. È una sorta di pellegrinaggio. Rossini. Tutti a onorare l'anziano musicista che avrebbe mantenuto dal 22 al 43 la carica di direttore del Conservatorio di Parigi. Fa tempo anche a vedere Filippo Egalité. Sì, sì. Tutto. Ha attraversato una quantità di regimi, più lui di Talleyrand. E questa posizione però al Conservatorio avrebbe scatenato le ire di molti francesi. Molti giovani leoni. Per esempio Adam o Berlioz. Adam diceva che era sempre arrabbiato e Berlioz diceva di lui che è un pedante scontroso. Cherubini muore a Parigi il 15 marzo del 1842. Non è mai più tornato in Italia da quella prima torinese dell'ifigenia del 1788. Vogliamo anche ricordare che quest'anno sono vent'anni dalla fondazione dell'orchestra giovanile che porta il suo nome Luigi Cherubini fondato dal grande Riccardo Muti. Scegliendo questo nome anche come simbolo di forte italianità però con una diffusione, con una carriera internazionale. Italiani nel mondo. Italiani da esportazione. Da esportazione. Riccardo Muti è un italiano nel mondo. Evviva! Riccardo Muti è un italiano nel mondo. 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 freschezza, congelatore 4 stelle per congelare in casa la grande spesa, frutta, verdura. Eh sì, forse il vecchio frigorifero è superato perché da oggi si conserva e si congela con Ignis 4 stelle. Voce roca, uso costante del diretto milanese, il vero Bauscia tifosissimo del Milan, le sue maniere sbrigative, poco attente al Galateo, una media cultura scolastica, anche se riceve la laurea, meritatissima, onori, scausa in ingegneria, accompagnata, devo dire, da uno straordinario mecenatismo sportivo, da una grandissima generosità, con un unico vizio, quello del gioco. Beh, questi sono tutti gli elementi che hanno reso mister Ignis, al secolo Giovanni Borghi, il simbolo vivente della nuova Italia industriale, del dopoguerra italiano. Dove l'era nato? L'era nato a Milano. A Isola. A Isola, 14 settembre 1910, dalla benestante Maria Moro e da un piccolo imprenditore, un artigiano, Guido, è il più brillante dei quattro figli e alla fine della sesta elementare, perché allora c'era la sesta elementare, entra giovanissimo nella già avviata officina elettromeccanica del padre che purtroppo nell'agosto del 43 viene devastata. non si sa se per i bombardamenti alleati o per, diciamo, la folla che per vendetta si infieriva contro chi aveva simpatie fasciste come il padre di Borghi e la famiglia a quel punto si trasferisce a Comerio, in provincia di Varese. Quindi, diciamo, potremmo dire da una disavventura, da una brutta esperienza, l'inizio di una nuova luminosa carriera, perché proprio lì inizia la produzione di fornelli elettrici da cucina. I figli rientrano dopo l'8 settembre dal servizio militare e ci sono pochi operai. Allora, il discreto successo di vendite prosegue nel dopoguerra, quando la Guido Borghi e figli acquista da un artigiano milanese il marchio, il fuoco, Ignis. Ignis, con le cucine elettriche Ignis che fanno un figurone alla fiera campionaria di Milano del 1946 a quella di Lione dell'anno successivo, 1947. Non c'è più la fiera campionaria? No, purtroppo, ma noi ci avrebbero esibito strani animali. Ma vivi o...? No, nudi. Ah, ok. Non vivi o morti, nudi. Poi è indifferente se vivi o morti. Senti, nel 1949 i Borghi, sappiamo, acquistano a Napoli le smalterie De Luca che erano utilizzate per la smaltatura dei semi lavorati, ma le misure attuate dal governo italiano colpiscono il mercato dei fornelli elettrici e spingono quindi la famiglia, la famiglia Borghi, a spostare la produzione verso le cucine a gas e qui arriva il talento straordinario di Giovanni Borghi. Che fino ad allora era stato impegnato solo nei rapporti commerciali con i clienti, ma lui ha un'intuizione, cioè che il mercato delle cucine a gas si sarebbe presto saturato e quindi decide di entrare nel campo dei frigoriferi domestici, intuendo quello che sarebbe stato il boom di questo consumo. Chi è che faceva solo i frigoriferi, ovviamente? Quelli che fanno sempre tutto. Il monopolio. No, la Fiat. La Fiat. Allora, lui avvia a Gavirat lo stabilimento e mostra subito delle doti ingegneristiche producendo i frigoriferi a compressore che erano forniti dalla ditta danese, quindi la Danimarca due volte oggi, il maestro di Cherubini, la danese Danfoss e lui riesce ad aumentare la capacità dei frigoriferi da 90 a 180 litri, la raddoppia, mantenendo però limitato l'ingombro e riducendo i costi di produzione. Successo immediato, stiamo parlando di una cosa accaduta 70 anni fa, 1954, inaugura il nuovo stabilimento di Comerio, mentre i dipendenti, che nel 1943 erano solo 5, arrivano a circa 2.000. 2.000. Senti, lui si sgancia a quel punto dai danesi e nel nuovo stabilimento aperto a Cassinetta di Biandronno è in grado di produrre tutti i componenti dei suoi frigoriferi. E' inarrestabile. Certo, a quel punto diventa il più grande produttore, pensate, di frigoriferi d'Europa e tra i maggiori al mondo e questo fa anche capire l'importanza, la consistenza del fenomeno del boom in Italia e l'aumento esponenziale dei consumi, perché certamente il frigorifero era un nuovo oggetto di culto, anche perché lui è un innovatore straordinario, è ad esempio il primo al mondo a introdurre l'isolamento termico con il poliuretano espanso. Che gli permette di ridurre i prezzi di vendita dei frigoriferi dalle 1.000 lire per ogni litro di capacità si arriva fino a 300 lire al litro e a quel punto sbaraglia la concorrenza e riempie di frigoriferi le case di tutti gli italiani. Sì, sì, Piero ha ancora quello di… Ma io tengo apposta un Ignis, della Roulotte dove dormo, c'ho l'Ignis. Quello di… degli anni… Quello lì, certo, ma è l'unica cosa che funziona. Sì. Io non funziono, ma l'Ignis funziona ancora. La Roulotte. Dormo nella Roulotte. Signori, qualche numero. Sono passati 20 anni da quei 5 dipendenti del 43, siamo negli anni 60. La Ignis fattura 40 miliardi annui. Di lire. A tre stabilimenti in Italia, una cinquantina di filiali anche all'estero. I dipendenti sono diventati 7.000, produce 8.000 frigoriferi al giorno e copre il 40% della produzione nazionale ed esporta in tutto il mondo 250.000 frigoriferi, pari a un terzo della produzione. E' chiaramente il personaggio perfetto per raffigurare il nuovo imprenditore. è anche molto abile nell'uso dei mezzi di comunicazione di massa, instaura un rapporto diretto con il pubblico attraverso la sponsorizzazione fondamentale di squadre sportive, ad esempio grandi campioni di Pugilato, Sandro Mazzinghi, ciclismo, Antonio Maspes, calcio e soprattutto, e tutti voi ne avete sentito parlare, Palla Canestro con la Ignis Varese, un formidabile veicolo pubblicitario che lo renderà popolarissimo. Poi cosa succede? Beh, poi ci sono i problemi, come in tutte le storie industriali, l'incantesimo un po' si spezza, perché la sua personalità prorompente, accentratrice e anche in qualche modo paternalistica, tipica del Cumenda, non favorisce il ricambio manageriale e in qualche modo la crescita ha una brusca interruzione. Lui nel 69 è costretto ad appoggiarsi agli olandesi della Philips e tre anni dopo passerà di mano il gruppo, il controllo passerà appunto agli olandesi della Philips. Ma non va in pensione. Ma per carità. E quindi si inventa la produzione di macchine distributrici a gettone, ti ricordi i gettoni, Piero? Benissimo, delle bibite. Delle bibite e si butta anche nel nuovo business dei televisori con la società Emerson. Tu hai un Emerson. Io con la Ignis ho l'Emerson nella roulotte dove vivo, se volete venirmi a trovare dopo passerà in sottoimpressione l'indirizzo. Sì. Lui non lo legge così tanto non è mai venuto a trovarmi. Allora, mangiamo delle carube. Di solito, se potete venire il sabato, vi offro delle carube. No, e qualche regalo che mandano i telespettatori. No, quelli se li prende tutti. Ah, ok, vabbè. Senti, lui è anche in questo un visionario stupendo perché ingaggia dei tecnici altamente qualificati e di fatto produce un nuovo tipo di televisore a colori di grandissimo successo. Ahimè però, malato da tempo, si spegne. Proprio a Comerio. A Comerio, pochi giorni dopo aver compiuto gli anni, il 25 settembre, lasciando dei ricordi indimenticabili, come il secondo posto, signori, secondo posto del Varese Calcio nel campionato 1968 e c'è un 5-0 alla Juventus. Ancora se lo ricordano. Solo per questo noi dobbiamo essere ingrati a Borghi in eterno. Poi aveva dei grandi amici. Beh, certo. Uno era il compagno di balera Angelo Moratti, straordinario ballerino di tango. E poi c'erano due giovani leoni. Beh, il nipote. Eh certo. Fedele Confalonieri, che noi salutiamo con grandissimo affetto. E un cantante che avrebbe fatto molta strada. Sì, un cantante con qualche ambizione da ballerino. Sì. Silvio Berlusconi. E poi fatemi salutare il figlio, che è un uomo stupendo, elegantissimo, finissimo, sempre gentile, Guido Borghi. Evviva Giovanni Borghi. Abbiamo un ultimo contributo che è tratto dal film di Roberto Faenza, Forza Italia, ma non vuole essere irriverente. Grandissimo Giovanni Borghi. Siamo venuti nel meridione, non certamente per divertirci, anche se il sole è bello a Napoli, ma siamo venuti per mettere un'industria veramente efficace. Tanto più che vediamo non solo la necessità industriale, ma anche una necessità nazionale. Il libro dell'almanacco è lì e voi dovete soltanto andare nelle migliori librerie. Non offre sogni, ma solide... Solide certezze. Sì. Allora, oggi è sabet, sabet, non dico niente perché è arrivata la causa, lo sai? Sì, sì, hanno fatto causa alla rete, non possiamo più dirlo. E oggi ci dice Eser come l'orso al mel, cioè essere come l'orso al miele, essere goloso. Ecco. Ecco, Leonardo, non essere troppo goloso. Sì. Lascia qualcosa anche a noi. Leonardo è molto goloso e poco geloso. Va bene. Perché lo è stato in passato, ma poi leggendo Foscolo e Leopardi insieme... Ho acquisito. Ha capito che è meglio non essere geloso. Sì, e anche la storia della Veronica Cibo Malaspina. Beh, quella è una storia pazzesca. Sì. Senti, che cosa... Dunque, è uscita una campagna pubblicitaria, il famoso studio di Armando Testa, sull'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia. Hanno invitato lui in Umbria? No. No, in realtà sono foto bellissime. Questo è Spoleto. Sì, ma lo sappiamo perché siamo uomini di mondo. Ma non c'è scritto. Scrivete nelle pubblicità, questo non lo dico solo a L'Umbria e a Armando Testa, ma a quelli del Trentino. Diteci, dove sono questi posti meravigliosi. Incantevoli, ben fotografati, ma non c'è scritto dove. Queste cose le abbiamo viste dal Gattapone a Spoleto. Il Gattapone, il ponte del Gattapone a Spoleto. Il Castello di Castiglione del Lago, sul lago Trasimeno, che era la fortezza di un nostro beniamino, Ascanio della Cornia. E allora salutiamo Mario Draghi. Mario Draghi, attenzione. Ti ha chiamato? No, se avete in tasca degli euro... C'è la firma. C'è la firma. No, certo. Eh no, però ricordiamo... Io l'ho falsificato un sacco di volte, ma stai scherzando. Ma io... Mario Draghi, come se piovesse. Lui sa la firma a memoria. Ma giù in cantina, Mario Draghi, come se piovesse. Va bene. Pensa che responsabilità avere la propria firma sulle banconote. Sulle banconote. Che responsabilità. Sì, sì. Va bene, va bene. Noi ci vediamo domani e chi cambia canale non è un Mario Draghi, ma è un... Della Cornia. Della Cornia. Che era uno che menava a prendere. Ascanio. Ascanio. Evviva. A domani. Al manacco di bellezza, a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini. Con Lucia Simioni, Stefano Puppini, Jacopo Milardotti, Paolo Faroni, Riccardo Cassani, Greta Torresi, Samantha Chiodini. Realizzato da Amerigo Daveri, Valentino Puppini, Luigi Consolandi, Stefania Margheritti, Alessandro Puppini. Prodotto da Piero Maranghi, una produzione classica HD. Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.